A Camerino la tradizionale colazione di Pasquetta torna in Piazza Cavour, un segnale di ripresa per la città Ducale, che nel lunedì dell'Angelo torna a vivere il suo centro storico, proprio come avveniva prima del sisma. Piazza Cavour, che è la piazza più importante di Camerino, la piazza del Duomo, e riprendiamo a vivere il centro. Dunque appuntamento in piazza, dove è stato allestito il buffet con le tavolate. Il menù è rigorosamente quello della tradizione. Pizza dolce di Pasqua, pizza con il formaggio, affettati, coratella di agnello, frittatina e uova sode. Pietanze che riportano indietro nel tempo. Delle nostre parti, perché è un pezzetto che non la facevo così, che abitiamo a Roma e siamo venuti qui a gustare queste cose. È tradizionale, la usavamo sempre quando siamo qui, adesso a Roma non si fa queste cose, allora siamo tornati qui e ce la stiamo gustando. Questo è il ricordo di quando ero un ragazzo, diciamo fino a 15 anni ho ricordato questa e mi è rimasta molto molto importante, non la ridimenticherò mai. È fantastica perché è la colazione di casa, io sto a casa oggi, sto a casa mia. Le tradizioni che bisogna sempre mantenere, che ti fanno ricordare quando eri piccolo. Dopo colazione la possibilità di partecipare a visite guidate nelle zone del centro tornate ad essere fruibili, mentre i più giovani si sono riappropriati della piazza per giocare a pallone. Anche questo segno del ritorno alla normalità.